Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio, vediamo il video. Il premio è un premio. Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio. Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio. Il premio è un premio. Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio. Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio. Il premio è un premio. Il premio è un premio. Il premio è un premio che mi piace molto, il premio è un premio. 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 che voglio dire le due parole è è il capitano è il capitano insomma avete fatto una ragione e avete fatto un po' che nella provincia di Perio con alcune si conoscesse anche un po' di più calcio a 5 perché avete attirato un po' l'attenzione con tutte queste vittorie quando siete arrivati ridosso dalla vittoria del campionato avete carizzato un po' l'attenzione dei media e del pubblico penso che questo forse sia una grande soddisfazione sì è stata una bella soddisfazione quella è compito da Stavolini e questo da Kuroko Gusto e poi grazie anche a noi ciò che ha dato un po' di visibilità è uno sport che poi è in cui non ha molto serie di rupo in calcio l'anno prossimo si può fare un campionato più grosso di noi e speriamo di fare bene dall'altro quest'anno la scuola è la mia famiglia la mia famiglia è la mia famiglia la mia famiglia è la mia famiglia è la mia famiglia è la mia famiglia che non è lega a questa vittoria è la mia famiglia io ho ragazze i miei compagni di squadra sono stati veramente fenomenali hanno giocato una campionata pazzesca io non ho giocato perché questo è troppo male e invece le ho detto alla mia campagna pazzesca grazie a tutti 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 grazie a tutti